Da Paul Delvaux a Luigi Vettori, passando per Basaldella e lo stesso Bertoia, l'arte del Novecento esce dal cavo dei musei civici per incontrare il suo pubblico. Si apre ufficialmente Mondi Possibili, due secoli d'arte dalle collezioni di Pordenone, un'esposizione di quasi 140 opere di pittura, scultura e disegno di grande valore. Otto percorsi tematici che si snodano in tre sedi della città, Galleria Henri Bertoia, Casa dello studente Antonio Zanussi e Museo Diocesiano di Arte Sacra, attraverso percorsi inediti e opere riscoperte, frutto di accurate indagini e di studi specialistici. Questa mostra, la seconda di un programma che è stato avviato due anni fa, raccoglie una selezione di 140 opere provenienti dai depositi dei civici musei di Pordenone e comprende anche una selezione di opere presenti nella collezione della Casa dello studente Zanussi. Si tratta di un racconto che attraverso la pittura, la scultura, la fotografia e le arti grafiche, da un lato testimone e documenta la ricchezza e la complessità delle collezioni civiche e dall'altro consente anche di tracciare il lungo e importante percorso di arricchimento e di incremento delle collezioni del comune grazie anche alla disponibilità e alla generosità di tanti donatori, dei programmi di acquisto e infine, e questa è la ragione della nostra mostra, di valorizzazione. Una mostra corposa di quasi 140 opere diffuse in tre punti della città. Continua così un percorso che abbiamo aperto, cioè quello di a rotazione riscoprire, restituire al pubblico e rimostrare nel vero senso della parola le opere che di solito sono nascoste nei magazzini comunali e non solo nei magazzini comunali. È quindi una promessa mantenuta. La apriamo alla vigilia, alle porte di Pordenone Legge, consentendo anche alle migliaia e migliaia di visitatori della rassegna di avere anche questa offerta culturale. È un po' un'operazione orgoglio, un'operazione identità per, così dire, accrescere la consapevolezza di questa città, di avere questo immenso patrimonio, ma è anche chiaramente un patrimonio che è della regione Friuli Venezia Giulia e un patrimonio che è di tutti, perché in questa mostra, diciamo, si va da Pordenone all'Oriente con una serie di artisti locali di fama internazionale e arti artisti internazionali. Ci tenevamo e ci teniamo da una parte a valorizzare questo tesoro che nel corso degli anni è stato raccolto, che viene anche messo a disposizione del pubblico nei nostri spazi, che ha una storia quanto mai significativa per la città, per il territorio, ma anche in senso molto più ampio. Dall'altra ci teniamo anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi tra istituzioni e un'istituzione pubblica e la nostra istituzione comunitaria, perché così quello che è nascosto si possa vedere. La nuova mostra si inaugura questo sabato alle ore 18 in Galleria Bertoia e sarà aperta da domenica 10 settembre al 28 gennaio 2024.